si un belè cos'è vai a ritrinciare la vigna? si si io guardo ok quanti filari ti mancavano? non mi ricordo ah vabbè vabbè saranno una decina o quindici ok allora io un attimo qua finisco di piantare cioè pianto il mais e poi ci vediamo giù si ciao arrivedergliela arrivederci allora non riesco a beccare il buco qua di sto saccone di me non vedo niente con le forche ah sono così ok prego c'ho beccata aspetta che devo aprire no ma dovevo già aperti oh già pieni oh dovevo già montare il pano aspetta ok per guardare il pano dovevo il buco dovevo il buco Bombi Ma dov'è che stai andando? Ma Dio, ma qua non c'è stata la strada Eh no C'è la strada lì Mi salta l'asseminatrice Vabbè Fa la retro Ma meglio Mi si è tirato Ma va Mi si è tirato su Allora Ma non mi si è tirato giù? Ok Allora Io sto tre punti se sbatte Questa buca Ma Sto avendo un po' di problemi con la seminatrice Non c'è non va Aspetta, vedo se è attaccato Boh, purtutto è attaccato Boh, vabbè N'era partito il cardano Questa è un po' di problemi che non è arrivato a fare Questa è un po' di problemi con la seminatrice Questa è un po' di problemi con la notizia E' un po' di problemi con la notizia Questa è un po' di problemi con la notizia Bel trattore, nuovo. Comodissima. Tutto bella ammortizzata, mica come quello stairwell che ha battuto. Benicco, qua prende bene la raggiolina. Per ora ti sento bene. Ok, allora fino a qua via. E dove sei? Ho appena superato la città. Ah, vabbè, voglio dire che abbiamo... Vedete che su montagna non via. Eh, può darsi anche dal vento come tira. Sì, oggi non sento tanto. Sì, non c'è tantissimo, almeno qua non c'è tantissimo vento. Qui in Parma. Vabbè, è meglio. Vabbè, ciao. 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 E il bel calco qua, è venuto fuori qua. Un B Mi senti? Sì, sì Ok, prende Cioè, perché ora vuoi che ti porto il pranzo? Perché vedo che sono già le 12 e un quarto Non vengo su Eh sì, vengo su io Non stai a venire giù te Eh sì, ti faccio E ti porto lì il panino Lì, a che ora vuoi che vengo su circa? Fai, non so, 10 minuti all'una Ok, va bene Ciao 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 e poi parto se mi fermo un po' a mangiare anch'io lo lascio qua, tanto che volete lo prende il trattore dove è il panino? io non lo trovo ok qua, preso e tu dove li prende non lo spritzi non lo spritzi non lo spritzi non lo spritzi che non lo spritzi non lo spritzi Io la rotondo. Sì, ma vai piano, tanto puoi pure aspettare, non è un problema. No, perché devo andare a finire di seminare io. Ah, allora... Mi fermo lì un attimo a mangiare anch'io lì col panino. Dopo... Dopo ritorno giù. Ok. Eh, qua mi manca un bel po'. Tanto un bel po'. Io che bello che ho fatto quello. Mi sono andato tutto nella sua corsia, povera. Ciao. Oddio, c'è un buco nello scarico, mi so. C'è un più brutto rumore. Dove l'ho messo qua. Ehi, ciao. Ciao. Guarda quanto a me manca ancora, voglio... Anche domani sei qua. Eh, vabbè. Dopo è che ci mettiamo a mangiare sul cassone? Ma sì. Aspetta, mi siedo qua. Qua. Tu, qual è che vuoi? Qual è il presunto? Eh, io c'ho quel... Cioè, ce n'è uno al prosciutto crudo e uno col prosciutto cotto. L'ho presi così a caso lì, quelli che c'erano su tavola. Cioè, riusci a me, mi piacciono tutto due. Faccio la conta. Ambarabacicicocò, tre civette sul como, che facevano l'amore con la figlia del dottor. Il dottor si ammalò. Ambarabacicicocò. Allora, la conta ha detto tu quello al prosciutto cotto e io quello al prosciutto crudo. Ok. Oh, beh, non era malaccio. Ma era buono, Pagano. Eh, era buono. Vabbè. Buono, buono. E tu continua pur qua, che io c'ho da seminare in altro campo, Giù. Sì, ciao. Vabbè, ciao. Poi mi hanno scappato. Ecco il mio matanello. Oddio. Oddio se passa un forte qua su. Vai passo per la città stavolta. Per il città paese. È fino a 5.800 giri. Per il città. È ero. Per il città paese. Sì, è vero. Dio, ci sono un tempore, non c'è un trago. il parcheggio qua. Dio, che buca. Dio, che buca. Dio, che buca. Dio, che buca con arbozol. Dio, che buca. 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 che buca. Dio, 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 che buca. ah un B mi senti? si si ok se no vengo direttamente in persona a vedere tanto non dovrebbe mancarmi molto quindi vengo direttamente a vedere in persona comunque te l'ho mandata se vuoi vedere la foto vabbè dopo comunque te volevo di tanto motivo stavo a battere la radiolina per tutta questa cosa che a casa dove è il sollevatore del mio holan aspetta che New Holland ah il sollevatore lì dietro pensa al sollevatore frontale lì quello vabbè abbassa tardi ah vabbè abbiamo poi i trattori difettosi è il terzo punto ma c'è quello in alto ah vabbè vedremo va bene tanto di vigna ce n'è ancora lì da fare quando lo porti a casa lì dico lì vedo dico al nonno lì di darci una guardata lì intanto due smartellate da posto stasera ci rimango tanto vabbè anche cioè quando finisci lì dico al nonno lì guarda che tira fu tutto tanto guarda che bel campo guarda che bel campo un bel campetto è venuto fuori tutto un bel mais cervo di merda ancora come la vabbè lì la vabbè Grazie. Ma qua non mi sto neanche a girare, c'è tutto il retromarcio. E' un cazzo. Stavo andando giù dalla montagna. Faccio un po' più semi, spero di riuscire a finire qua. Alla prossima. No, mi si è svuotata, è finita. Vengo qua col saccone. Questa qua, ricorda. Dio, 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 dio. Un be? Non mi sente. Ah, è successo un quico qua. Che è successo? Non è entrata la retromarcia e sono finito giù dalla montagna col Valtra. Non mi sono ribaltata, però ho graffiato qualcosa, mi so. Posso? O sorrere dire alla grana? Eh, sti freni sono da cambiare, anche il cambio. Sto schifo. Sto schifo. Mi sono più fatta da cambiare proprio il trattore. Eh, anche secondo me, è un po' difettoso. Dovrei portarlo in cucina. Aspetta, guarda se si è rotto qualche brancetto sotto qua del tre punti davanti. Non ci sono stati dei grandi anni, solo la scaletta si è graffiata un attimo. lì, cioè, e poi anche lì un disco della seminatrice è giusto, leggermente graffiato. Storto? No, sei solo graffiato, però... Va bene, non male. Sì. Per fortuna poi che non si è ribaltato. Se no, ciao. Se sei ribaltato penso che stai non stavi tanto bene. L'ospedale? Eh, penso proprio così. Ma tu che campo stai fanno? Quello dietro alla... Alla cosa, lì, alla... Come facciamo, lì? Alla cantina. Che ho... Se l'ho appena finita. Ok. Tira su qua tutto. Questa è su. Di conseguenza pure quest'altra sarà su. Sì. Dai che corro da Umbia a vedere lì quell'albero. Invera iniziamo a portare giù qualcosa. Ah no, non c'è la motosega, è vero. Devo ordinare la motosega, quindi niente. Dai, vado a... Vado a guardarne un attimo. Vado a guardarle... Grazie a tutti. 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 Wow. Aspettami, mi puoi dire se ho acceso i lampigianti? No, ne ho prodotto stento. Ah, me l'ho dimenticato. Ok, muci. Ah, me l'ho do. Mano l'ho do. Ne sei a niti insiune stavo ce c'era. Si, o bambini tu ce stau e carat. Grazie a tutti C'è una lampa già attra C'è una lampa già attra C'è una lampa già attra Ok C'è una lampa già attraverso 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 Qua, Massimo Questa è un po' inutile Vabbè, possiamo andare a casa A riposarci finalmente Questa è un po' inutile